Hi girls, hi boys! Questo è il mio secondo videogameplay e vi presento un nuovo gioco. Questo gioco è Amnesia The Dark Descent. È un gioco horror in cui si è un Daniel, che è un ragazzo, non lo so, che praticamente si risveglia in questo stranissimo castello in cui ci sono dei mostri. Vabbè, niente di più, vi dico, iniziamo solo. Spero che voi vediate qualcosa perché in effetti è un po' buio come gioco. Ho messo la luminosità al massimo ma non so come si vedrà. Vabbè, spero bene. Iniziamo il gioco. Iniziare un nuovo gioco? Sì! Perché me lo chiedi? Te l'ho già detto. Sì! Ah, vediamo un po'. È un gioco che secondo me veramente merita molto perché fa molta paura. Io poi che sono un'appassionata dei giochi horror, veramente ho cercato per mari e per monti. Non dimenticare, certe cose non devono essere dimenticate. L'ombra che mi segue, devo sbrigarmi. Mi chiamo Daniel, vivo a Londra. Ah, Mayfair. Cosa ho fatto? È pazzesco! Non dimenticare, non dimenticare. Non devo fare... Devo concentrarmi. Il mio nome è... Sono... Daniel. Sai noi quanto ce ne frega? Ben poco, anzi quasi per niente. Comunque, se devo interessare, io sono Double, ci piacere. Basta? Finito il gioco? Ah no, ecco no. Dicevo io. Ah, la 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 la. Bello! Piove acqua! Certo. Double ci però pure tu. Che affermazioni? Piove acqua? Cosa vuoi che piova? Facciamoci la doccia. Ah, bella rinfrescante. Vabbè, andiamo eh. Hmm, una frana. No, non ho acciarini, quindi non posso... Accendere niente. Bella la luce, ma... Godete ora, perché in questo gioco non ce ne sarà molta. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ah. Un acciarino. Ehi! Salve signora seghia. Oh, ciao Double ci, come va? Bene, bene, a te. Ah, tutto ok. Guarda che ci sono i mostri in questo castello, lo sai vero Double ci? Sì, lo so. Ah, bene. Niente, giusto per avvertirti, sai com'è? Sì, vabbè, non me ne frega. Ah! Sono malvagio con le sedie. Loro pensano di essere mie amiche, ma non lo sono. Vaso! Tu sei in complotto con le casse, vero? No, perché vi spiego subito. Le casse, ce l'hanno con me in questo gioco? Perché dove ci sono le casse? C'è un mostro. Portano sfiga. Oh, 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 Daniel! Daniel, che ti sei buttato giù? Rialzati! Eh, guardate, mo' Mo' faccio... Che ne sono? No! No, eh, ce la devo fare. Aspettate che ce la devo fare. E vai! Sì! Sì! Sono un asso! Sono un asso! Vai! Oh, 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 oh! Non ti arrabbiare! Porta permalosa, lo dico io. Andiamo di qua, va? Oh! Allora, per questo gameplay è tutto? No, dai. Scherzo, però... Ah! Non mi piace. Non mi piace. Acciarino! Non... Che cavolo... Posso... Posso usare qualcosa per spaccare il vetro? Ma certo... Oh, Amy! Carissimo il mio Elmo! Sì. Ti chiamerò Elmo. Elmo. Anza Elmo. Non so. Ma perché? È storto. Sono l'unica che vede storto. No, vabbè. Ora! Eh? Eh, beh. Ah, bene. Non lo posso prendere. Fantastico. Tutta sta fatica per nulla. Pazienza. Ma non capisco perché è storto. Forse il nostro Daniel che è ubriaco. Cammino storto. Cammino storto. Adesso. Dai, basta scherzare. Cammino storto. Prendiamoci. No? Daniel? Daniel no. Daniel no. Hai già bevuto abbastanza? No, no, no. Vai via. Oh, così non bevi più. Non c'è più niente? Solo quello? No. Noi ci sediamo qui a osservare il... Com'è che ci si abbassava? Non mi ricordo più niente. Vediamo. Opzioni. Input. Allora, inclinarsi a sinistra va bene. Sinistra va bene. No, correre mi è più comoda la Z. Accoverciarsi mi è più comoda la C. E saltarmi va bene quello. Ok, torniamo al gioco. Vediamo se va. Corri Daniel, corri! Ok, così mi pigliano in giro, vero? Non sta correndo. No, perché se arriva un mostro siamo fregati se corre così. Acciarino e... Tu vieni con me. Facciamo Harry Potter, va? Ma che era la musichetta? Pazza, mi sono rotta. Corri Daniel, corri però veramente. No, eh. Di correre sul serio non se ne parla. Anselm! Cifa! Andiamo Anselmo. No, tu stai qua anzi. Svegliati! 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 Lo so! Lo so che 30... Che 30 bottiglie di vodka sono tante. Ma ripigliati! Oh! Ma dico io. E là c'è nessuno! Spero di no! Signora sedia! Come va? Oh, va tutto bene! Double Jim! Tim! 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 La porta si è aperta da sola, ma no! No, è da sola il vento! Ho pure un mostro! Ma... Tanto! Sei tu che rischi la vita non io! Quindi... Beh... Fa tutto bene! Oh! Lo fai apposta, vero? Lo fai apposta, ammettilo! Per mettermi paura! Sì! Ne fatti, è vero! E allora vai via! Oh! Ma dico io! Le sedie si permettono di pigliarsi il gioco di me come le casse... Come se le casse non fossero abbastanza! Ma dico io! Mmm! Che nervi! Ragazzi, intanto il tempo... Come sapete i miei dieci minuti sono quasi finiti, quindi... LOL! Quindi è meglio iniziare a salutarci! Vi dico... Di andare a vedere assolutamente il canale di Toots2000 e di Matt2000... Quello di Kale2000 e Crobat2000... E niente... Iscrivetevi, commentate... Lasciate un mi piace, condividete... E... E... Vabbè... Niente... Alla prossima! Che probabilmente lo farò ancora la sua ammese, ma non ne sono sicura! Comunque... Da Double C questo è tutto! Bye girls! Bye boys! E... Al prossimo video! Bye! Ciao! 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 Ciao!